Ammontano a 2 milioni di euro i beni che la DIA di Catania ha sequestrato Raffaele Donzelli, 47 anni, imprenditore nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche in provincia di Ragusa. Il provvedimento è stato ordinato dai giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta della procura distrettuale e del direttore della DIA. Lo scorso mese di maggio l'uomo era stato già arrestato per banca rotta fraudolenta, in concorso con alcuni familiari ed era ritenuto legato al clan dominante Carbonaro, come sostenuto in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'ottobre 2019, confermata dal Tribunale del Riesame un mese più tardi. Aveva tentato di recuperare, tramite i genitori, la moglie e le sorelle, rifiuti plastici non pericolosi, mediante l'uso di svariate società. Aziende create ad hoc che, dopo aver accumulato enormi debiti, anche verso l'erario, venivano svuotate dai beni aziendali e dalle autorizzazioni ambientali richieste lasciate fallire o dismesse, in attesa del fallimento e sostituite da altre società comunque destinate ad avere breve vita. Del patrimonio sequestrato fanno parte due aziende che operano nel settore dell'abbigliamento, due autovetture, una moto, conti correnti e disponibilità bancarie. Da ciò era scaturita nel gennaio 2020 una misura ablativa nei confronti del padre, Giovanni Donzelli, accusato di aver avuto rapporti con l'associazione di stampo mafioso riferibile alla Stida, offrendo rifugie e covi allatitanti e mettendo a disposizione la propria casa per le riunioni, tra gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Vittoria e quelli appartenenti ad altri clan. L'associazione mafiosa, sempre secondo la DDA, avrebbe reimpiegato provenienti illeciti in attività imprenditoriali riferibili a Raffaele Donzelli e avrebbe aiutato le aziende a sbaragliare la concorrenza servendosi di metodi criminali come l'intimidazione sistematica.